Il Museo Egizio di Torino compie 200 anni e festeggia con la riapertura della Galleria dei Re e con la restituzione alla collettività della Cappella Rupestre di Elesia, da oggi visitabile, gratuitamente e completamente restaurata anche grazie all'impegno del gruppo FS. La Cappella Rupestre infatti sarà restituita alla libera fruizione da parte di tutti, tornando ad essere patrimonio dell'umanità per l'umanità. In occasione del bicentenario questa mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del Museo Rinnovato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, presente per Ferrovie dello Stato il Presidente Tommaso Tanzilli. Il gruppo Ferrovie dello Stato è un'azienda di Stato e quindi come tale deve supportare tutto ciò che ci caratterizza e che ci connota e noi siamo una nazione nota al mondo per la cultura. Ci è piaciuto molto la circostanza che l'accessibilità al Tempio di Elesia sia a titolo gratuito e direttamente dall'esterno senza passare attraverso il museo. Questo caratterizza quello spirito di servizio che connota anche il nostro gruppo e quindi abbiamo scelto di supportare esattamente questo tipo di ristrutturazione. A partire dal mese di novembre offriremo delle visite gratuite per coloro che vorranno appunto visitare il Museo Egizio di Torino e l'altra è quella che siamo l'official carrier del Museo Egizio di Torino, quindi tutti coloro che arriveranno a Torino con le nostre frecce, con gli intercity e anche con i regionali avranno uno sconto sul biglietto d'ingresso. Da oggi fino al 22 novembre in programma tre giorni di festival di ingresso gratuito con laboratori, speed lecture, performance e conferenze, tre giornate di celebrazioni denominate Festival 200. Grazie a tutti.